buongiorno sono la tua consulente virtuale di crea my business come hai già capito dalla telefonata ci siamo accorti di alcune problematiche sulla tua scheda di google non preoccuparti ti spiegheremo come e perché affidarti a noi qui sotto puoi vedere due esempi ci sono alcuni punti molto importanti che non sono compilati correttamente per esempio la tua attività non è rivendicata ciò significa che google ti ha registrato ma sta aspettando che confermi che esisti oppure gli orari in modo che i clienti vedano anche gli orari di punta e di maggiore affluenza lo slogan e le recensioni lo sapevi che molti utenti decidono per esempio dove mangiare o comprare in base alle recensioni di google my business se non ci sono almeno 5 stelle puoi spendere anche molti denari per il posizionamento magari del tuo sito ma non sarai mai il miglior risultato geolocalizzato